ciao ragazzi allora se avete visto il titolo che vi ho messo in pratica perché bisogna studiare cinofilia la cinofilia va studiata perché serve a disirincoglionire gli appassionati cinofili che sono tanti perché oggi chiunque l'avete visto qua brusley non so se avete visto le sue prestazioni per me non sono novità perché avendo studiato tanto i cani in asia centrale non mi lascio sicuramente affascinare da quelli che oggi sono i vitelli dell'asia centrale che ce ne vogliono 10 per fare un cane di questa matrice aborigina comunque quante volte ho visto io in asia centrale quando si scontravano cani delle città e cani aborigini mezzi randaggi che provenivano dalle greggi e la grande differenza è che molti di voi avete visto video su youtube cioè quelli che hanno voluto farvi vedere loro io li ho visti davvero e nel motivo che continuo ostinarmi a dire che i pastori dell'asia centrale ce n'è solo un tipo quell'aborigine il resto è una brutta coppia che hanno fatto i russi con diciamo i più traviati dell'asia centrale finalizzati alle esposizioni eccetera eccetera ma il pastore dell'asia centrale ovvero lo shepherd dog è ancora tutta un'altra cosa quello che vi dicevo e c'entra anche con questo argomento che bisogna studiare per disirincoglionirsi ma questo non solo in cinofilia in tutto allora io parte che io non vado mai a commentare su nessun nessuna pagina di nessun professionista e devo riconoscere che comunque i professionisti in cinofilia sono direi seri io non ho mai avuto professionisti che lavorano durante il giorno con i cani che vengano a rompermi il cazzo sulle mie pagine scrivendo stronzate se tu vuoi proprio essere il professionista così come io non mi sognerei mai di farlo sulle loro pagine loro in quel momento stanno lavorando hanno le loro convinzioni parlano della loro esperienza parlano di ciò che fanno realmente in pratica tutti i giorni ma io non mi sognerei mai immaginatevi se io andrei a commentare su una pagina di un odonto tecnico che non ne so niente oppure di qualsiasi altra professione anche io non so niente di motori ma non ci penserei mai di andare uno di quei gruppi o voler dirla a mia dire no perché anch'io ho avuto sette automobili e ho aperto il cofano c'era il motore e so benissimo e invece cazzo l'incinofilia è una cosa incredibile perché gli appassionati di cani sono infiniti partono da chi ha ci vuole nella borsetta chi compra i cani achili qualsiasi disciplina qualsiasi cosa purtroppo o per fortuna facebook chiunque ama i cani gli propone i posti di chi fa cinofilia ed è incredibile io vedo la differenza fra le persone che non studiano le persone che studiano e ovvio io parlo di miei video corsi parlo di miei percorsi perché questo è il mio lavoro ma le persone quando studiano da un bravo professionista è difficilissimo che vengono a scrivere minchiate perché la studio ti proprio ti disrincoglionisce quando tu capisci le cose riesci poi anche capire quanto sei stupido a scrivere certe cose ad esempio prima che mettessi il video ieri di quanto è mordace brusley ma il valore inestimabile di brusley e la genetica aborigena che ha tipicissima la sua affabilità col datore di cibo proprio dell'autentico shepard dog affettuoso che da me accetterebbe qualsiasi cosa mi fa persino tenerezza quanto è buono e come si sa trasformare nei confronti di uno straneo e lo farebbe anche contro un predatore nel momento in cui avverte un pericolo ecco è molto importante capire queste cose capire che un cane può essere poliedrico che un cane se non sia se non si è fatto un percorso appropriato gli studi si scrivono solo minchiate prima che io dimostrassi cosa in grado di fare brusley che allora sono stati tutti zitti sono spariti tutti si sono per un mese si sono fatti trattati di cinofilia io chiamo fantasiosa perché la maggior parte di chi perde tempo a scrivere per farsi vedere che sa in realtà non sa un cazzo e più che tutto non fa il professionista non fa questo di lavoro non so dove lavori poi non sa come passarle il tempo e invece magari di studiare di lavorare con i cani scrive commenti e credetemi che i rincoglioniti della cinofilia sono una manna per tutti quelli che dopo vendono soluzioni a tutti i problemi che rincoglioniti creano i loro stessi cani sia problemi psicologici sia problemi fisici è assolutamente vero che non è sufficiente acquistare un po di miei video corsi per diventare chissà chi ma non solo non è neanche sufficiente prendere delle qualifiche noi come federazione abbiamo dato per poi essere di cinofili tutte le persone che hanno fatto i miei corsi così di presenza hanno assistito a come io mi sono sempre comportato lo stel durava due o tre giorni poi tra l'altro non ho mai dato io gli esami sono sempre assistito prendevo gli allievi più vecchi facevo fare delle domande loro rispondevano in base alle risposte come un qualsiasi esame non è che tutti quelli che gli hanno laureati in medicina sono diventati chissà chi come medici tanti ha fatto delle troiate che non stanno in genere intera non parliamo poi anche di veterinari di tutto il resto quindi hanno sostenuto un esame come vi ripeto fatto tenuto da una commissione di persone che prima avevano già preso la qualifica io assistivo e se hanno risposto alle domande più o meno giuste noi gli abbiamo dato questa qualifica tutte le volte che io ho consegnato una qualifica ho sempre sottolineato che questo non era la fine del percorso era l'inizio un po come nelle arti marziali no in giappone uno deve arrivare a cintura nera per essere considerato dagli allievi idoneo allo studio del karate qua in italia si arriva cittura cittura verde cioè si crede di aver saputo tutto del karate e del judo di queste cose e noi con la cinofilia facciamo un po la stessa cosa se poi abbiamo poi un pezzo di carta che in qualche posto abbiamo preso beh ci pensiamo veramente di sapere chissà che cosa invece la cinofilia è fatta di tanto studio teorico io non so cosa offrirvi meglio dei videocorsi perché non è che vi posso portare con me nei viaggi vi costerebbe molto di più ma rischiereste anche ma ne ho anche portati di persone come si fa ci si fa una teoria e dopo di che bisogna far tanta pratica bisogna avere questa caratteristica dell'umiltà di partire dal presupposto che più studi e più di cani rischi di dover ricominciare sempre da capo e abbandonare sta presunzione che non ho studiato niente ma io commento perché io sogno mi aveva detto visto tanti video ho sentito tanti commenti ci sono gli esperti di commenti hanno già sentito talmente tante risposte ai commenti vanno a statistica se sentono quelli che che ha sempre dato la stessa risposta si convincono che praticamente è vero e poi ridicolano cioè chi ha testato brusley e cinofilo che ha 64 anni lo conosco bucato ovunque dai cani e niente normalmente chi non ha neanche un barboncino gli dice a lui come avrebbe dovuto fare quindi studiare proprio necessario per disirincoglionirvi ma non solo nella cina nella cinofilia nella vita di tutti i giorni perché quando uno vive da coglione avrà il suo spazio sui social però insomma la vita diventa veramente difficile il coglione paga sempre ed è solo lo studio che in qualche modo ti evolve e ti fa smettere di essere una vittima una vittima di tutti quelli che aspettano solo i coglioni proprio per vendere delle soluzioni a un prezzo molto elevato che non è il costo dei video corsi sono il migliaia e migliaia di euro che uno poi butta in tutto in cure inutili in tutto in correzioni di cani che sono incorreggibili in tutto per non sostituzione di cani problemi che dopo non possono più avere in famiglia tantissime altre cose patologie che si pensa che siano le abbiamo andate così il diavolo invece l'abbiamo creato quindi è molto importante perché questa abitudine di chiedere sempre consigli senza studiare è proprio dovuto al fatto che non ho studiato pensate che i miei allievi dopo che hanno fatto un percorso hanno il mio numero di cellulare mi possono mandare tutti i messaggi che vogliono e io li rispondo e non lo fanno mai perché quando studiano e poi hanno non ha più bisogno di nessun consiglio quindi oggi volevo condividere questo pensiero come studiare è veramente importante per non fare la figura da scemi specialmente sui social ringrazio tanto per avermi ascoltato e vi auguro a tutti buona giornata a presto